Ciao amici, bentornati a Face Jam, oggi voglio lavorare sull'ovale del nostro volto, della nostra faccia e andiamo a fare un po' di esercizi proprio dedicati a questo. Allora, prima facciamo pesce palla, però quando facciamo pesce palla proviamo di non creare delle rughe di alcun modo, così dobbiamo avere uno specchio o dobbiamo provare di proprio spianare tutto. Continui. And relax, perché poi lo senti quando cominciamo a lavorare su Face Jam spesso e volentieri si accendono anche i muscoli del cervicale, dobbiamo essere attenti di non esagerare, di non fare troppo. La cosa importante con Face Jam è la costanza. Allora, prossimo. Pugno sotto il mento, sollevo il mento, ok? E faccio, questa è la mia resistenza e comincio ad aprire la bocca, come se stessi dicendo wow! Wow! Pira indietro anche la labbra superiore, proprio per tirare anche, diciamo, la codice a barra sopra le nostre labbra. Relax, dobbiamo fare un altro dieci, ricopriamo un attimo e poi facciamo un altro dieci. Respira, sempre fa molto molto dolcezza quando possiamo respire. Qua ci siamo e vado. Relax. Ancora dieci, però ricopriamo poco poco prima di cominciare. Siamo pronti? Pugno, posizione, sollevo e facciamo wow! And relax. Allora, altro esercizio, proveremo di fare un mezzo sorriso, dare i denti, e faccio la lingua, da un lato all'altro, però senza perdere questo sorriso, senza grottare la fronte e senza harde caccia, ok? Ok, bene? Ok. È abbastanza così trasera, invece, per farlo il un altro esercizio che possiamo fare è proprio semplicemente toccare la nostra lingua sulla parte superiore della nostra palata. Tutto questo è la lingua qua sotto, questo muscolo è molto forte così, su relax, senza tanto, proprio bella papagorgia per aiutare tonificare tutta questa parte del nostro mento, andiamo di nuovo su e dieci volte. Relax, lo facciamo ancora una volta, siamo pronti? Di nuovo su, ok e poi un altro esercizio che mi piace tantissimo per spianare il collo e proprio sollevare il collo, tiri giù tenendoti sopra la clavicola e allungo il mento in avanti. Relax, dobbiamo fare ancora dieci, tiro giù, sollevo, allungo il mento in avanti. Relax, ci manca uno. Pronti? Prepariamoci su, allungo la mescella in avanti. and relax. Ah, un altro test game per noi, per allenare anche i muscoli della faccia e per sentirci sempre più freschi ogni giorno. Buona giornata! Buona giornata a tutti, passate una giornata spettacolare. Ciao!